le macchinine colorate e la pittura le macchinine colorate si stanno esercitando con la pittura dal vero ehi macchinine dipingiamo qualcos'altro? nel parco giochi troveremo sicuramente la giusta ispirazione ciao camion vuoi dipingere il garage? prendiamo i cappellini per non sporcarci di vernice dobbiamo cercare l'occorrente andiamo nel garage non c'è niente macchinina verde e nemmeno qui fuori una scopa una paletta ma niente che ci possa servire cerchiamo ancora questi sono dei rulli per dipingere prendiamoli la macchinina blu non ha trovato ancora niente ma qui c'è della tempera ma non è il colore che ci serve belli questi acquarelli oh oh ma non sono giusti per noi questi sono barattoli di vernice azzurra sì prendiamone uno e anche un barattolo di vernice gialla ci servirà dove vai macchinina rossa? certo servono anche dei pennelli questi vanno bene macchinina gialla non farti tentare dalla piscina di palline e vai! non hai resistito a un bel tuffo però anche qui c'erano degli acquarelli wow una vaschetta e un'altra vediamo come pensa di utilizzarle camion ci fai vedere come si fa? giusto nella vaschetta mettiamo la vernice ci prende con il rullo che facendolo scorrere vernicia in modo uniforme ora potete farlo voi macchinine la macchinina verde dipinge il tetto di azzurro e la macchinina blu dipinge la porta la macchinina gialla preferisce il giallo con il quale dipinge i muri ah non riesce ad arrivare più in alto anche la macchinina rossa dipinge solo in basso ma insieme fanno un ottimo lavoro bravissime macchinine il garage è tornato nuovo ciao alla prossima puntata ciao